Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono due bellissimi e bravissimi genitori. Entrambi innamorati di loro figlia Luna Marie. La piccola è comparsa recentemente sul profilo IG della mamma e dallo scatto la vediamo molto più cresciuta, stupenda. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese Letto Quotidiano.it Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese Letto Quotidiano It Luna Marie è la gioia più grande di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La piccola ha pochi mesi, ma sembra già somigliare tantissimo a suo padre. La somiglianza è davvero clamorosa. Mai visto la foto della figlia della showgirl argentina e del noto hair stylist? E, una bambina bellissima, che è cresciuta in un buffer d'occhio. Voi l'avete mai vista di recente? Rimarrete a bocca aperta appena la vedrete, scopriamo di più. Luna Marie è cresciuta tantissimo, quanti mesi ha ora? Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua secondogenita, Luna Marie, a Padova, quasi un anno fa precisamente alle due e mezzo nella notte tra l'11 e il 12 luglio. E, difficile da credere, ma sono quasi passati 12 mesi, sembra ieri. Tra pochi giorni, la figlia della nota argentina e l'air stylist milanese compirà un anno. Sicuramente la separazione dei due genitori è stata burrascosa, ma non le mancherà l'affetto da parte loro. Non sappiamo se Belen o Antonin organizzeranno una festa tutti insieme, sicuramente è ancora presto dato che l'una è piccola e la rottura tra i due è una notizia molto fresca, riunirsi non potrebbe essere l'idea giusta. Ma avete visto Luna Marie, nell'ultimo scatto condiviso da sua mamma? E, una bambina dolcissima e bellissima, vediamo quanto è cresciuta. Belen Rodriguez e Luna Marie Letto Quotidiano It Luna Marie, la clamorosa somiglianza con Antonio Spinalbese L'ultimo post Instagram di Belen Rodriguez, pubblicato nelle scorse ore, ha lasciato tutti a bocca aperta. Lo scatto ha rivelato quanto sia già cresciuta Luna Marie. La vediamo seduta con un bellissimo vestito a fiori, impossibile non innamorarsi di lei. In pochissimo tempo, il post ha raggiunto migliaia di mi piace e commenti. Addirittura, in tantissimi hanno notato la clamorosa somiglianza tra la piccola e suo padre Antonino Spinalbese. Infatti, non sono mancati commenti del tipo, il babbo in miniatura, questa espressione è praticamente il padre, oppure, uguale ad Antonino, incredibile. Malgrado sia ancora piccola, in tantissimi hanno notato che Luna ha ripreso tutto da suo padre. Anche il primo genito di Belen, Santiago, è uguale a suo papà, Stefano De Martino. Luna Maria Ora Letto Quotidiano.it Safari Grazie a tutti